Noi facciamo un focus su quello che avverrà a partire già da questa sera a Fiorano Modenese. Due appuntamenti speciali, uno questa sera e uno domani a pranzo, un incontro conviviale. È l'insegna della solidarietà e della pace. Stasera, 20 e 30, l'appuntamento è a Casa Corsini di Spezzano di Fiorano e ci sarà appunto l'incontro con Gianni Rigoni Stern, il figlio di Mario Rigoni Stern, il famoso scrittore. L'incontro sarà dedicato al racconto di questo progetto molto speciale, il titolo è La Transumanza della Pace. Ne parliamo anche con le mie ospiti. Ti do il buongiorno alla vice sindaca di Fiorano Modenese, assessora alla cultura Morena Silingardi. Buongiorno Morena. E buongiorno a Roberta Viaggiarelli, nostra cara amica, attrice, autrice teatrale, maker culturale, attivista, insomma, ben ritrovata, cara Robbi. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io partirei dalla nostra vice sindaca Silingardi. Insomma, Fiorano aderisce a questa manifestazione molto bella che viene declinata in mille modi. Voi l'avete fatta vostra, no? Il Festival della Migrazione, scegliendo come tema La Pace, anche un racconto che parte dalla terra, dalle persone che vivono in territori che hanno vissuto il trauma della guerra e poi, insomma, ne parleremo e che trauma, insomma, viene da dire, dove rimangono solo macerie, però è possibile ripartire. Mi sembra un'ottima scelta. Ringrazio perché sinceramente piace tanto anche a me, piace tanto anche a noi. Noi abbiamo aderito al Festival della Migrazione con il giusto entusiasmo e la convinzione che ci vuole per appunto aderire a questo genere di manifestazioni, mai come oggi urgenti e importanti, dico io. Però ci è piaciuto anche con l'evocazione del, che è un po' il tema che percorre molti degli incontri di quest'anno, liberi di andare, liberi di rimanere, abbiamo immediatamente pensato che parlare di questa esperienza, di un'esperienza così importante che va avanti, tra l'altro, da tanto tempo, poi Roberta ce ne parlerà diffusamente ancora di più e se qualcuno è interessato vorrei davvero che partecipasse stasera all'incontro di Casa Corsini perché in definitiva questo è proprio un esempio estremamente significativo di cose possibili fare per lasciare le persone libere di rimanere. E credo che sia una chiave di lettura interessante vedere anche la possibilità di non necessariamente abbandonare i propri luoghi, dopo aver subito un trauma così importante e tragico come quello della guerra, il fatto di poter ricostruire qualcosa nel luogo in cui si è sempre vissuto, credo che abbia un valore aggiunto. Per cui ci piaceva raccontare questo, ci piaceva anche legarlo a un momento conviviale, come appunto è stato definito quello che avremo domani con gli alpini, perché poi io ho detto ai nostri alpini, alla nostra associazione, ho detto Riconister non può che pranzare con gli alpini, memoria di tante belle pagine scritte dal padre, veramente importantissima insomma. Per cui è anche questo un significato importante, un'associazione che si mette al servizio, domani poi anche lì magari daremo qualche altro dettaglio, ma anche appunto questo aspetto di un momento vissuto insieme per cercare poi di aiutare altre associazioni, altre realtà insomma. Roberta Biagerelli, cos'è la transumanza della pace? La transumanza della pace e di pace ne avremmo così tanto bisogno in questo momento, sempre se ne è bisogno ma oggi più che mai penso, è un progetto di solidarietà dal basso, dico dal basso perché è partito in modo così veramente semplice, pensando di trasportare un'esperienza e una voglia di solidarietà verso un luogo di grandi macerie. La guerra nei Balcani è stata cruenta, è stata fortissima, soprattutto in Bosnia e Herzegovina, paese a me molto caro e tra il 92 e il 95 quella terra, non solo le città di Sarajevo sotto i media di tutto il mondo, ma nelle zone più periferiche della Bosnia e Herzegovina, compreso Srebrenica, luogo dell'ultimo genocidio dalla fine della seconda guerra mondiale, la tragedia e le macerie umane e fisiche, soprattutto quello che è rimasto alla fine della guerra nel 95, coi patti di Dayton, la disperazione mi viene da dire era veramente tanta, perché si fa presto a sganciare bombe, a uccidere persone, a distruggere territori, villaggi, ma la ricostruzione è veramente lunghissima, il dopoguerra è eterno e ve lo dico io che torno da quei luoghi da fine agosto, il dopoguerra nelle campagne bosniache, ma anche in quelle serbe mi viene da dire, è veramente una cosa che ha di là da venire, la ripresa, la ricostruzione, la riconciliazione, tutte belle parole che si mettono sul piatto, ma poi c'è bisogno di concretezza, c'è bisogno di terra. Io sono stata molto fortunata, perché grazie a Paolo Rumiz, nel 2008 ho conosciuto Mario Rigoni Stern, diciamo nell'ultima sua fase di vita, perché poi ci lasciò proprio a giugno del 2008, e ad accudire Mario Rigoni c'era proprio Gianni, suo figlio, uno dei tre figli, che è rimasto per tutta la vita a vivere sull'altopiano d'Asiago, e di altopiani, di pascoli, di mucche, si è occupato da un punto di vista professionale. Sono stata fortunata, perché Gianni andava in pensione in quel momento, e io l'ho portato a Srebrenica, e lui si è innamorato, ed emotivamente l'ho portato in un altopiano, che si chiama Succesca, che è esattamente a mille metri di altitudine, come l'altopiano d'Asiago, quello dove vive lui da sempre, e lì lui è scattato qualcosa che emotivamente, e ovviamente ha a che fare col suo portato emotivo di papà, tornato dalla ritirata di Russia, e lì lui ha messo in piedi il progetto della transumanza della pace, che si è sostanziato in modo molto concreto, collezioni di formazione a questi allevatori, allevatrici, perché sono le donne badate che in cui i territori portano avanti l'economia, in questo momento, e c'erano persone che facevano anche due ore di strada per arrivare da tutte le contrade, perché parliamo di un'area di montagna molto vasta, per ascoltare le sue lezioni, e le sue lezioni vertevano proprio sul recupero di un patrimonio ambientale, che era stato abbandonato, perché quei territori sono stati assaliti, depredati e bruciati nel 92, proprio all'inizio della guerra, e quindi le persone per 20 anni hanno vissuto lontano come profughi da quei luoghi, sono rientrati nel 2000 in quei territori, i sopravvissuti parliamo, quindi principalmente donne vedove, o giovani uomini sopravvissuti al genocidio, dopo le lezioni di Gianni sono venute, una cosa per noi simbolica ovviamente, parliamo di una goccia in un mare di necessità, ovviamente io sono ben cosciente di questo, sono venute quattro donazioni successive, dal 2010 al 2014, noi ogni anno abbiamo portato un certo patrimonio di mucche, grazie a un contributo, e mi fa piacere dirlo, della provincia autonoma di Trento, abbiamo compiuto una transumanza, non a piedi, l'abbiamo fatta con i camion, anche perché andiamo in un luogo che non è Europa, è extraeuropeo, quindi c'erano lunghissime, come dire, giustamente, certificazioni, quindi c'è una quarantena in Italia, una quarantena in Bosnia, e sono arrivate queste mucche. Il primo anno di donazione io ho fatto un documentario e ho dato il nome a questo progetto, Gianni era molto restio ad apparire, è un uomo di montagna, molto, e ho fatto un documentario, e il documentario ha dato poi il titolo a tutto il progetto. Dopo le mucche sono venute le stalle, grazie ai fondi dell'otto per mille della chiesa valdese, e ora, dopo 15 anni, noi siamo in procinto di costruire un piccolo caseificio, una cooperativa. Che sarà il coronamento del progetto, che poi continuerà... Con le sue gambe. Esatto, continueranno a camminare. Allora, siccome hai parlato del documentario, c'è il trailer, ci fa vedere l'arrivo delle mucche, com'è che si chiama l'alto piano? Di Succesca. Di Succesca, che è, insomma, questo posto così... Ricondito in Municipalità di Srebrenica. Di Srebrenica. Vediamolo insieme, il trailer della Transumanza della Pace. Remitina, Quintolotto slovena, Quintolotto spigata, Rialto tic-tac 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 tic. Se penso da dove è partito tutto questo, avanti, un po' indietro, passo dopo passo, coi pensieri del giorno dopo. Di Srebrenica, ricordavo semplicemente alcuni servizi televisivi. Mi è ritornato alla memoria quando ho appunto incontrato questa amica che mi ha detto, vieni in questi posti per aiutare le vedove a potare le piante. Però bisognava ripartire proprio a fare gli agricoltori. Io ho lavorato su questi aspetti tutta la vita. Visto che adesso sono anche in pensione, potrei dare una mano a queste persone. Io ho fatto un progetto. Sono riuscito, per fortuna, a avere un finanziamento dalla provincia di Trento che mi ha permesso l'acquisto di vacche rendene. Questi animali saranno donati innanzitutto alle persone che hanno partecipato alle mie lezioni e che hanno manifestato la voglia di averli questi animali. Allora io sono entrato in ogni casa, ho verificato che cosa? Che ci fosse il posto innanzitutto per tenerli, che avessero i foraggi per poterli mantenere. E la forza? Perché spesso altre volte donazioni precedenti sono finite male. Questa è una donazione un po' particolare perché personalmente voglio vedere come vanno a finire queste vacche. Vabbiamo veramente in un po' particolare. Messimo che ci sono persone che vanno da stare per un progetto. Sì, dov'è کرto? Sì, dov'essi realizzare le nostreppo, vedi. Adesso guardiamo la costruzione. Baviamo siendo una donina polioprivredno. C'è solo quello che ci siamo貸d per gli stoli. E io sono lascerato un contribuirai a lui, perché è stato il nostro primo e mi son� 150 anni sono arrivato e vissere il progetto. Pite a volte è quello que vol di lasciare. Ma ora pensi a quelle persone dall'atelier di stocco. individuo la famiglia e allora dico andiamo avanti Silingardi, vedere queste immagini mi fa riflettere perché così comunemente si dice a proposito dei migranti aiutiamoli a casa loro, come per dire ci mandiamo un po' di soldi e poi se la sbrigano loro noi non ci pensiamo più, questo progetto invece ci mostra sì aiutiamoli a casa loro ma aiutarli significa prendersi cura, seguirli, essere amici, che ci sia uno scambio, una relazione è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa Secondo me è veramente tutta un'altra cosa al punto che a livello personale, questo è un mio modo di sentire quando io sento dei progetti, quando io sento l'aiutiamoli a casa loro sinceramente provo è veramente un fastidio perché so di tanti progetti sui quali non discuto tutto quanto però che terminano il loro compito in una donazione che va dove non si sa, si spera ben gestita eccetera eccetera è quasi appunto un liberarsi la coscienza per cui io ho dato qualcosa di mio e che ne facciano un po' a quello che vogliono, non so, questo è un progetto di tutt'altra natura ma anche di tutt'altro spessore emotivo insomma io ricordo che Roberta me ne parlò anni fa, diversi anni fa alla fine di un figlio dell'epoca che mi aveva emozionato molti, di un suo bellissimo monologo che anzi consiglio quando non perdetevi figlio dell'epoca di Roberta Biaggiarelli mi ricordo che alla fine ci eravamo messi a chiacchierare così e avevo imparato che lei faceva da anni peraltro seguiva questo progetto da anni e ne ero rimasta veramente affascinata prima in tutto perché capivo quanto lavoro ci fosse dietro ma anche quanta partecipazione e soprattutto quanta ricerca di contatti ha altri, per cui è un gruppo di persone adesso immagino che tu abbia portato tanti amici in tutti questi anni e sono persone che vanno, si confrontano, bevono un caffè probabilmente nella famiglia che abbiamo appena visto io credo che questo sia veramente il valore aggiunto di quello che noi possiamo dare molto molto di valore molto superiore al di là di una cifra, una cifra che è sempre ben accolta perché poi ogni progetto ha bisogno anche di essere finanziato e tutto il resto ma qua anche solo vedere, mi permetto di dire, la faccia di Gianni Rigoni Stern che esprime questa partecipazione e anche questo dice ma se io ogni tanto penso di smettere poi li vado là e non smetto a me commuove nel profondo del cuore oggettivamente credo davvero che dovremmo tutti fare una riflessione su questo genere di interazione con le persone perché poi la pace si costruisce così eh sì, 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 questo è un esempio però estremamente efficace pur essendo una goccia nel mare è la qualità della relazione umana che fa sempre la differenza assolutamente Roberta e anche la sua durabilità nel tempo io dico le cose a spot non funzionano, non possono funzionare lo dico insomma nella mia piccola saggezza devo dire che il progetto ha tantissimi valori per me lo ha emotivamente perché io da 25 anni racconto il genocidio di Strebrenica quindi ben so cosa è accaduto emotivamente ognuna di quelle famiglie che adesso hanno una mucca che ovviamente ha generato perché Gianni la cosa, la mia fortuna è stata incontrare una persona così competente che da 15 anni segue il progetto in modo ininterrotto e quindi le mucche sono state fecondate perché non avete portato lì le mucche noi le abbiamo portate non abbiamo portato lì la buon anno cioè Gianni penso che ad oggi dopo 15 anni ha cambiato due macchine innanzitutto perché da Asiago a Sebrenza sono mille chilometri andare e mille tornare innanzitutto ha portato là un sacco di esperti i suoi amici della facoltà di scienze forestali di Padova ma anche altri suoi amici ognuno competente su una cosa precisa i corsi di formazione con i veterinari locali proseguono ancora oggi in loco e sono le stalle di Gianni quindi quelle mucche a loro volta hanno procreato gli allevatori, le allevatrici hanno firmato un contratto con noi le femmine devono essere allevati i maschi possono essere macellati c'è stato un aumento della produzione del latte anche se viene pagato pochissimo e perché ora si costruisce un caseificio? perché se no il latte viene portato a 100 km per essere trasformato e non ha senso allora abbiamo chiesto la costituzione di una piccola cooperativa in loco verranno due persone ad Asiago a fare un apprendistato di sei mesi e torneranno a produrre in loco formaggio e a pastorizzare latte anche se in quella cultura loro non amano formaggi stagionati amano più formaggi liquidi c'è un formaggio tipico locale che si chiama Caimac che è una sorta di formaggio acido che però loro spalmano dappertutto l'altra cosa la capacità di Gianni nella sua sapienza da buon montanaro è entrare in punta di piedi dentro una cultura altra che è la cultura degli Slavi del Sud che sono le popolazioni che abitano i Balcani quindi compiendo un censimento capendo chi poteva avere lo spazio per una mucca la capacità, la mucca ce l'ha avuta chi ha frequentato il corso ce l'hanno avuta così caduta dal cielo e lui li sta seguendo passo passo in questi 15 anni perché diventi veramente un progetto di quelli come si dice tanto sostenibilità sostenibilità significa che da un certo punto in poi tu sei capace di fare un recupero paesaggistico perché quel paesaggio con l'abbandono delle persone quindi la mancanza di coltivazioni e il pascolo delle mucche al pascolo era già un luogo a vocazione di allevamento precedente alla guerra non è che le mucche sono state portate da noi c'erano già stalle prima stalle non secondo le normative europee però c'erano piccole stalle e quindi questa cosa ha permesso un recupero paesaggistico perché la felce aquilina aveva invaso quell'alto piano e la felce aquilina è una felce infestante che se ingerita dall'animale l'animale muore e purtroppo questa cosa si è dovuta in qualche modo reimparare in quei luoghi riapprendere e la cosa incredibile è che Gianni in questi anni non li ha mai abbandonati grazie a un contatto locale un ragazzo che si chiama Edin Durakovic detto Ado che viene esattamente da uno di quei villaggi il suo villaggio è stato assalito nel 92 lui ha perso tantissimi membri maschi della sua famiglia questa immagine che vedete sono piccole cappellette che stanno sono tante contrade sparse sull'alto piano e nel villaggio di di Edo Durakovic che è il braccio destro di Gianni in loco ora lui si è laureato è un avvocato ha anche un ruolo adesso all'interno del ministero di Tuzla dell'economia lui era un ragazzo che parlava italiano io l'ho conosciuto a Sebrezza ancora doveva laurearsi e quindi ho capito che poteva essere proprio il mediatore linguistico e culturale per far entrare Gianni in quelle case e così è stato e dico sempre che è il figlio ormai di Gianni Rigoni perché Gianni ha due femmine avrebbe sempre voluto un maschio e Edo è una persona che è sul campo tutti i giorni che media con noi la sera ci sentiamo su Skype c'è un problema immediatamente interviene non è un progetto di cooperazione ufficiale ma è un grande progetto dico io di solidarietà dal basso perché questa storia noi l'abbiamo raccontata in giro Carlin Petrini di Slow Food ci ha aiutato fin dall'inizio a raccontarla e ovviamente il cognome che porta Gianni non è secondario il mio documentario è servito in tutti questi anni a fare tante presentazioni in giro per l'Italia a raccogliere altrettanti fondi quindi a monetizzare perché le economie si fanno con i soldi non è che si fanno si fanno con la capacità la competenza di ricostruire da zero in modo visionario un'economia ma allo stesso tempo ci va un'economia concreta una moneta e quindi il mio documentario io sono l'aggregaria di Gianni in questo progetto è servito a comprare attrezzature agricole sì le stalle sì gli animali sì la produzione del latte che porta una moneta in casa tutti i mesi ma allo stesso tempo era necessario meccanizzare l'agricoltura e quindi abbiamo raccolto una somma veramente ingente in questi 15 anni visto dalle foto che tra l'altro lo diciamo sono di Luigi Ottani esatto quindi insomma quella era una consegna foto d'autore era una consegna di Pasqua sotto una nevicata incredibile di mungitrici avete portato proprio le macchine le macchine comprate là le compriamo in Austria oppure le compriamo in Slovenia perché tutto quello che viene portato ricordiamoci bene posso dire una cosa insomma se Brennitz è noto universalmente come un luogo martire simbolo di una tragedia di questo genocidio terrificante un luogo di macerie voi avete fatto rinascere una comunità ecco e in questo modo ci abbiamo provato ci sono voluti anni anni e non è ancora finita e non è ancora finito è ancora un cammino perché però è un faro di speranza io spero sì che quello che stiamo facendo che stiamo portando avanti sia in qualche modo contagioso e le persone capiscano che come diceva prima Morena Selingardi la pace va costruita ogni giorno ed è necessario educarsi alla pace al rispetto alla cultura degli altri perché se entri in quelle case ascolti le loro storie e quindi capisci perché le persone sono costrette in certi momenti a emigrare dai loro luoghi perché provengono da territori distrutti non puoi non entrare in empatia con quelle situazioni e allora una volta l'empatia deve trasformarsi in un'attività un'azione concreta cioè la pace non è solo il fermo della guerra ma è la capacità di costruire futuro insieme perché se conosci le persone non ti spaventi più e soprattutto rispettando la cultura dell'altro tu diventi l'altro e io dico torno a ripetere una cosa se il livello della violenza si alza non è un problema degli altri è un problema che riguarda anche noi soprattutto noi nella nostra Europa calda e felice con tutti i problemi che si porta dietro quindi per me questo sguardo sbilenco attraverso sui Balcani in questi 25 anni mi ha fatto capire tantissime cose e quindi nel diciamo nello spesamento attuale penso che ci comprende tutti e tutte c'è anche la possibilità però di capire un orizzonte e io sto cercando alleati per questo orizzonte penso che ci sia tante persone che lavorino intorno a cose malvagie ma penso che ci sono tante persone che tengano sorreggano con uno scudo di luce e non sono new age per niente sorreggano delle cose e proteggano il mondo e le persone che hanno voglia di viverci ancora in pace allora questa sera vi aspettiamo ribadiamo l'importanza di insomma incontrare Gianni Rigoni Sterner sentire raccontare da lui questo percorso questa esperienza questa transumanza che lo ha portato proprio così fino a Sebrenica e poi l'importanza anche dell'incontro conviviale che sarà anche un modo per raccogliere fondi proprio per il casificio della comunità rurale della municipalità di Sebrenica sono proprio due momenti che servono due momenti di costruzione costruzione io ad esempio sono certa che insomma questa sera usciranno usciranno dei racconti importanti ma anche ci sarà una forte empatia tra le persone presenti e i relatori che insomma non possono io conosco Roberta da anni ormai e attraverso di lei ho conosciuto persone eccezionali attraverso di lei ho conosciuto dei costruttori di pace insomma perché appunto il partecipare a un incontro come quello di stasera significa anche mettere un po' del proprio tempo nell'ascolto di un'esperienza alta altissima a mio modo di vedere di altissimo livello però insomma significa anche farsi contaminare dalla voglia insomma perché come diceva giustamente Roberta poi ci sono dei gesti ci sono delle azioni che costruiscono la pace ognuno di noi può farne continuamente insomma secondo me anche mettendosi in ascolto e facendo qualche riflessione ad esempio su persone che vivono sì è vero che Erigone Stern ha usato due macchine però insomma in fondo a mille chilometri di distanza sono veramente pochi se ci pensi però da un punto di vista di conoscenza sono persone lontanissime mentre invece azioni come questa ci aiutano proprio anche entrare in un loro vissuto in un loro quotidiano insomma poi so Roberta ha appena portato degli amici anche miei da quelle zone insomma quindi poi abbiamo scelto come immagine ed è così che nascono le amicizie nascono le relazioni abbiamo scelto come immagine dell'iniziativa una bella foto di Luigi Ottani ma anche un bel soggetto è un'allevatrice di success è un'immagine bellissima però quella donna può essere mia zia che abita in campagna nella profonda collina marchigiana e quindi c'è questa somiglianza anche lei porta il fazzoletto esattamente così e quindi questa cosa ti tira dentro non ti allontana ma è un'immagine che ti porta dentro esatto io voglio ringraziare anche la sezione alpini di Fiorano Modinese che si è messa a disposizione perché gli alpini fanno tanto Gianni quando ha dovuto liberare dalla felcia aquilina ettari in quelle zone ha portato gli alpini perché gli alpini si mettono a disposizione penso alla recente alluvione anche in Romagna che ha colpito la regione persone che comunque accorrono che sono disponibili e mettersi al servizio è un grande valore c'è tantissimo volontariato in Italia lo sappiamo e questa cosa va come dire ogni giorno nutrita e quindi domani loro ci prepareranno questo pranzo però ricordiamo che bisogna prenotare prenotare quindi telefonare proprio al sul sito del comune ci sono tutti i riferimenti io vi ringrazio per questa partecipazione per averci raccontato la transumanza della pace un po' averlo condiviso con i nostri telespettatori veramente spero che questo messaggio sia arrivato grazie buon incontro buon festival della migrazione